Siamo nei pressi del torrente Riofi alla Badiola, nel tratto in cui cioè proprio ieri sera si è verificata una moria di pesci. La causa scatenante sembra essere da debitare alla discarica di Podererote ed è stata la stessa discarica ieri sera a chiamare i tecnici dell'ARPAT per verificare la situazione. A detta proprio dei responsabili una valvola dell'impianto sarebbe stata chiusa male e da lì sarebbe fuoriuscito il percolato che poi si è immesso nelle acque del torrente Riofi, torrente che da qui a distanza di poche centinaia di metri si immette poi nel fiume Arno. Dall'ARPAT precisano che si è trattato soltanto di un malaugurato incidente, la situazione è stata ripristinata, fatto sta che oggi nelle acque del Riofi è facile vedere un gran numero di pesciolini ormai morti a causa appunto del percolato. E sulla questione è intervenuto anche il centro servizio ambiente e impianti. Immediatamente il personale che normalmente è presente in discarica, accortosi di quanto stava accadendo, ha riportato l'impianto alle condizioni normali di esercizio senza particolari problematiche, facendo defluire acqua pulita nel torrente ed evitando così grandi ripercussioni sull'ambiente. Tale eccellerità ha evidenziato la correttezza delle misure adottate di controllo della discarica, anche a fronte di eventi straordinari e inoltre nelle ore successive si è mantenuta sotto controllo l'area per l'accertamento dell'efficacia delle misure adottate. CSAI poi termina, in seguito all'esperienza acquisita dal particolare e specifico caso avvenuto, al fine di incrementare la sicurezza impiantistica si sono intraprese azioni preventive per evitare il ripetersi di casi analoghi.